L'ultima vindigna è il titolo della commedia brillante scritta da Enzo Bucca, riadattata dalla regista e attrice Graziella Salvatore e messa in scena davanti ad un numeroso pubblico ai ragazzi speciali Labbo del teatro dell'oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella. Intanto perché l'ultima vindigna? Perché era un lavoro con il quale potevano partecipare tutti i ragazzi, perché si può giostrare dalla recitazione alla comparsa, al ballo, al canto, insomma un po' di tutto e tutti potevano partecipare, ognuno con la propria disabilità. Un successo soprattutto per i ragazzi dell'oratorio che da tempo hanno trovato nella comunità amore e accoglienza, grazie alla fiducia dei familiari e all'impegno dei volontari che ogni giorno si spendono per la realizzazione dei progetti mirati all'integrazione e al benessere psicofisico. È un progetto questo dell'ultima vindigna in cui i ragazzi si stanno impegnando veramente tanto e stanno mettendo tutte le loro forze. Si hanno fatto tante belle cose, da progetti artistici, progetti eco-musicali, mancava ecco quello teatrale vero e proprio, attraverso questa commedia si stanno divertendo e stanno mettendo in campo tutte le loro capacità. La commedia ha visto la partecipazione straordinaria del maestro Antonio Merulla che ha accompagnato con il suo organetto più di 40 attori che hanno vestito i panni e i personaggi caratteristici della nostra Sicilia. L'oratorio per i ragazzi ma soprattutto l'oratorio per le famiglie? Sì, famiglie, ragazzi, un po' tutti insieme. L'oratorio è la casa dei ragazzi in modo particolare ma anche della famiglia e insieme alle nostre famiglie possiamo realizzare tutto questo. Ci sono famiglie che fanno questo servizio attraverso i nostri operatori ma ci sono anche le famiglie dei nostri ragazzi che sempre ci sostengono e ci permettono di realizzare insieme a loro questi progetti per i loro figli. Tutti i consiglieri comunali, rapidi...